Asla 5 presenta tre progetti rivolte ai cittadini per implementare la prevenzione sanitaria. 30 lavoratori addetti alla pulizia della stazione della Spezia senza stipendio da tre mesi. Paglio del Golfo, la borgata CRVD, si trasforma in la Spezia Centro. L'arcivescovo Angelo Acerbi, originario di Sesta Godano, ci guida alla scoperta del presepe venerato da Papa Francesco. Liceo classico europeo, il Costa potenzia la propria offerta formativa attraverso un nuovo indirizzo. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del TLS giornale. In primo piano la sanità, se si punta sulla prevenzione sanitaria, non solo si fa il bene dei cittadini, ma si riducono nel contempo anche i costi del sistema a saccio sanitario. Asla 5 presenta tre progetti sanitari con l'ambizioso obiettivo di intercettare tutte le fasce d'età a partire dagli adolescenti. Chiara Alfonsetti e Raffaele Maurella. Medici di medicina generale, specialisti insieme in tre progetti volti a intercettare la popolazione a partire dall'adolescenza e implementare la prevenzione. I percorsi sono stati presentati questo pomeriggio nella sede della direzione di Asla 5 in Via Fazio. Progetto di condivisione percorsi AFA seguito dal Dipartimento Cure Primarie, progetto di prevenzione urologia per adolescenti e giovani adulti Asla 5 e progetto per la presa in carico delle fragilità in Asla 5, ruolo e compiti della medicina generale. Sono le denominazioni dei percorsi finanziati dal Fondo Governo Clinico della Medicina Generale, che in totale cuba 450 mila euro. Con questi tre progetti raggiungiamo tutte le fasce della popolazione, perché ce ne sono altri due che sono rivolti a pazienti fragili e anziani over 65. Uno è quello dell'attività fisica, che coinvolge molti anziani, e l'altro è quello di fare una raccolta di dati sui pazienti, sulle persone che sono sole, che sono fragili e che hanno diversi bisogni e attraverso questo noi attivamente li possiamo raggiungere. Grande attenzione dunque a tutte le fasce d'età, dall'adolescenza fino agli over 75. Una parte del progetto, quello diciamo sulla fragilità, riguarda proprio i soggetti fragili che hanno patologie. Invece il progetto dell'attività fisica adattata riguarda anche persone, potrebbe riguardare anche me, perché ho ultra sessantenni, quindi mi potrebbe riguardare tecnicamente per fare delle attività per evitare alcuni eventi patologici, oppure per migliorare, qualora ci fosse un'insorgenza di una patologia, migliorare le performance fisiche. Occhi puntati anche sugli adolescenti che hanno terminato il percorso pediatrico. L'ASL in questo caso rivestirà un ruolo che un tempo era ricoperto dalla visita di leva. È rivolto a una fascia d'età che va dai 16 ai 25 anni. Nella provincia di Spezia sono circa 9.600 i ragazzi in questa fascia d'età. Noi andiamo a sostituirci a quello che una volta facevano i medici militari. A 17 anni i ragazzi obbligatoriamente andavano a visita di leva e venivano scoperte delle patologie e che per questi ragazzi, adesso si parla di patologie ma non solo, anche delle anomalie, per questi ragazzi erano situazioni assolutamente normali, quando invece in realtà queste situazioni nel futuro avrebbero potuto provocare delle conseguenze, quali un'infertilità. in questa sede, in questa visita, si spera che i ragazzi si possano un pochino aprire e noi medici dare anche delle nozioni sui comportamenti sessuali, perché c'è una ricomparsa delle malattie sessualmente trasmesse. Anche quest'anno la Regione Liguria proroga, il 31 marzo 2020, la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket. L'esenzione può tuttavia essere rinnovata anche dopo il 31 marzo. Infatti si può chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui si abbia bisogno di una richiesta medica, in quanto i requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione del medico. Rispetto alla presenza di amianto sulle navi della Marina Militare, la Forza Armata precisa che di 156 unità navali 147 sono state bonificate, mentre per le ultime si sta procedendo alla messa in sicurezza. Tutti i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. In questi giorni il sindaco della Spezia ha ricevuto dalla Marina gli atti relativi alla mappatura dei siti e delle strutture militari con presenza di amianto all'interno della base navale della Spezia, cui nell'ultima legge finanziaria sono stati previsti fondi per 12 milioni destinati proprio alla bonifica. Bonifica fa sapere la Marina in una nota attivata da tempo sulle unità navali nei mezzi minori di vecchia generazione contenenti amianto, mentre dal 92 tutte le navi e le imbarcazioni minori sono state realizzate con la certificazione amianto free da parte del cantiere costruttore. Ad oggi delle 167 unità mappate, le attività di bonifica hanno interessato 156 unità, delle quali 147 sono state bonificate sulla base delle mappature iniziali di riferimento. 9 unità sono state inizialmente bonificate in parte e il completamento dell'attività verrà eseguito nell'ambito dei prossimi interventi in programmazione insieme a quelle per le rimanenti 11 unità. È opportuno precisare, continua la nota, che in funzione dell'esito delle mappature, le successive operazioni di bonifica non determinano necessariamente la rimozione, ma possono comprendere, ove non vi siano rischi per il personale, l'incapsulamento e il contenimento del manufatto contenente l'amianto. In questi casi vengono svolte periodiche operazioni di monitoraggio di possibili fibre aerodisperse, secondo un protocollo definito con l'Università di Genova a salvaguardia della salute del personale imbarcato. Una situazione, quella relativa alla mappatura e all'attività di bonifica infrastrutturale, sottolinea la nota, peraltro già illustrata lo scorso 24 ottobre dal Ministero della Difesa, a seguito di interrogazione e risposta immediata nella IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Proprio con la legge di bilancio per il triennio 2020-2022 è stato approvato un finanziamento annuale integrativo di 4 milioni di euro che permetterà alla Marina di proseguire nell'opera di bonifica dall'amianto. La cifra, oltre che consentire di intervenire sulle 60 navi militari ancora in servizio contenente amianto dislocata alla Spezia, dovrebbe comprendere la bonifica anche dei capannoni e degli insediamenti a terra. Ma proprio a questo proposito, le associazioni ambientaliste lamentano la scarsità di informazione sulla priorità degli interventi, oltre all'eseguità dei fondi messi a disposizione dal Governo. La stazione della Spezia, che per transito di passeggeri è una delle più importanti del Nord Italia, vive un momento di criticità. Cartacce sui marciapiedi, sporcizia nelle sale d'attesa, incuria diffusa. Tutto ciò per la difficile situazione che stanno attraversando gli addetti alle pulizie che da tempo non percepiscono lo stipendio. Vediamo il nostro servizio. È forte la preoccupazione da parte delle segreterie provinciali della Spezia, Filt, CGL e Wheel Transporti, per i mancati pagamenti degli stipendi da parte della società Manital, che aveva in appalto la pulizia anche nella stazione della Spezia Centrale. Solo alcuni lavoratori hanno infatti parzialmente ricevuto le mensilità dovute, in surroga dal comitente RFI, mentre la maggior parte di essi sta ancora aspettando gli stipendi di ottobre, novembre e tredicesima. L'appalto con Manital, la giudicataria dell'appalto con quasi il 40% di ribasso, è scaduto il 15 dicembre e i lavoratori, ad oggi affermano i sindacati, sono privi di riferimenti aziendali al vertice e di fatto in autogestione. Solamente nella giornata di ieri, continuano le organizzazioni sindacali, abbiamo avuto la certezza del subentro di una nuova società. Auspichiamo che la politica in ribasso adottata fino ad ora possa lasciare spazio ad una più attenta gestione nelle modalità di cambio appalto. Ci auguriamo anche che RFI garantisca l'impegno preso a derogare le competenze non ancora ricevute dai lavoratori e verificare la correttezza delle stesse. Conseguenza di questa situazione sono negli ultimi giorni le condizioni di scarsa pulizia all'interno della stazione centrale della Spezia, con cartacee sparse sui marciapiedi dei binari e cestini stracolmi in attesa di essere svuotati. Davvero un brutto biglietto da visita per una città che vuole diventare leader nel settore turistico. Presentati questa mattina in comune il nuovo nome e logo dell'ormai ex-borgata CRDD. Un cambio reso necessario dai nuovi regolamenti della Marina Militare. Jacopo Cidale e Davide Morina. Ritorno alle origini per la borgata remiera della città. Quella che fino ad oggi si chiamava CRDD, Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa, si chiamerà la Spezia Centro, come recitava la carta del paglio del 4 agosto 1963, che parlava di borgata della Spezia. Questa mattina in comune la presentazione del nuovo logo. Di fatto non è nata una nuova borgata, ma è solo una continuazione, un passaggio tra virgolette di consegne. Siamo appropriati appunto della denominazione che citava la carta del paglio del 1963, cioè borgata della Spezia e anche la di sfida che parla della gente della Spezia. Quindi siamo riappropriati appunto del nostro nome. Non ci sarà però lo stema della Marina Militare, che a causa di nuovi regolamenti interni a quest'ultima, non si potrà più usare in modo permanente con quello del comune. Questo nuovo logo riporta l'attore del Castel San Giorgio, l'acqua, il mare, che è il nostro elemento naturale, i nostri colori, che sono il rosso-blu, il nostro numero 5, che è il concorso di singola borgata, e poi altra particolarità sono i remi, che intrecciano il nostro scudetto, che è un remo della barca da canottaggio e un remo della barca da paglio, che sono le due principali attività che facciamo in mare. Nonostante questo, l'impegno della Marina nei confronti della borgata non cambia. Io direi che soprattutto l'impegno della Marina Militare nei confronti del palio rimane immutato, abbiamo sempre dato un supporto tecnico importante, continueremo a darlo, ma abbiamo colto questa opportunità per coinvolgere meglio anche la Lega Navale, che, come l'ammiraglio Camerini, il mio predecessore, tra l'altro in questo ruolo, ha sottolineato, ha un legame specifico con la Marina Militare e ci consentirà di essere utili anche specificatamente nell'ambito sociale, oltre che sportivo. La nuova borgata continuerà sulla strada della precedente nel promuovere iniziative finalizzate a rendere accessibile a tutti lo sport, oltre che con la scuola di canottaggio giovanile, anche con una sezione dedicata all'insegnamento verso ragazzi e ragazze diversamente abili. Un ringraziamento particolare a tutto il gruppo dirigente della nuova borgata, Spezia Centro per il lavoro che fanno quotidianamente con i ragazzi, per insegnare a uno sport, a lavorare in uno sport pulito, a sacrificarsi, anche a una prevenzione sulla salute importante legata allo sport e tutto il lavoro di promozione sociale che fanno a fianco ai portatori di handicap. Quindi una borgata che dà un esempio anche socialmente importante e va al nostro applauso. La borgata finora ha messo in bacheca due volte il palio maschile e otto volte il femminile. Le segreterie provinciali di SPI-CGL, FNP-CISL e WILP-WIL intervengono in merito alle anomalie riscontrate nell'applicazione della rivalutazione di alcune pensioni. Chiederemo all'Inpsp territoriale, si legge in una nota, una ricerca puntuale e chiarimenti su come intenderà agire tecnicamente per risolvere gli eventuali squilibri. prima trasmissione dell'anno in onda domani sera per il salotto del signor Rossi. Ascoltiamone un estratto in cui si dibatte sul ruolo del gruppo Conship nello sviluppo futuro del porto mercantile della Spezia. La Conship vuole veramente continuare a stare alla Spezia o vuole andare via? Perché hanno la strada spianata, noi ci siamo opposti al piano regolatore portuale che fece il Dottor Bucchioni come Presidente dell'autorità portuale, lo sa benissimo che era visioni contrapposte, la nostra e quella dell'autorità portuale, però adesso questa roba è legge e quindi la domanda sul porto è questa, quale sarà il futuro di questo porto? Lo dico da ambientalista ma lo dico anche da cittadino spezzino. C'è un ritardo nel programma di investimenti della Conship che però per quanto mi consta vanno avanti ma che stanno sottoponendo a una verifica tecnica il progetto di ampliamento del molo Garibaldi e diciamo che il management Conship è cambiato ultimamente e la proprietà vuole verificare verificare che la progettualità relativa all'ampliamento del molo Garibaldi sia adeguata allo sviluppo dei traffici internazionali. È una verifica che non si fa in due giorni e che sta portando via forse troppi mesi rispetto alle aspettative che erano maturate in giro ma che dovrebbe esplicitarsi a breve. Però c'è una via nazionale approvata sul Garibaldi quindi la strada anche ambientale non è più quella dell'impedimento. Sì, però c'è il solito problema dei dragaggi che è il problema storico della competitività del porto di Spezia. Quello, se i dragaggi sono fatti bene Sì, sì, ma non è fatti bene. Noi abbiamo avuto il problema dei dragaggi perché i dragaggi sono stati fatti in una maniera indecente quelli che sono stati fatti come nove. c'è stato blocco del tar del 2001 blocco del tar del 2001 però poi dopo sono stati ripresi tant'è che abbiamo avuto un problema legato alla moria dei mitini quindi c'è un procedimento giudiziario in corso come lei dottore sa benissimo e quindi insomma comunque c'è questo problema che dovrebbe di aspetto solo che c'è tempo guardi dottore quando noi dicevamo dragaggi facciamoli con con la bena idraulica con l'aspirazione non con la bena tradizionale ci hanno sempre detto che non era possibile adesso sembra che invece questo tipo di tecnologia sia fattibile per cui facciamoli bene. Papa Francesco ha fin dall'inizio del suo pontificato rinunciato all'appartamento papale decidendo di risiedere nella Domus Santa Marta questo lo rende per così dire vicino di casa dell'arcivescovo Angelo Acerbi nativo della nostra provincia nativo di Sesta Godano ed è proprio lui a guidarci alla scoperta del presepe di Santa Marta venerato anche dal Santo Padre vediamo il servizio le immagini sono di Raffaele Molella nella or di Santa Marta si allestisce un presepe che è anche venerato e guardato dal Santo Padre quando passa per andare nella cappella ed è quest'anno raffigurato in una vecchia costruzione di pietra o finta pietra che lascia nel centro la Sacra Famiglia con la culla del bambino di Gesù sorretta da due angeli con la Madonna nel ginocchio e San Giuseppe Ricurvo è tutto un blocco di legno molto pregiato come pure le varie statue dei pastori con le pecore sulle spalle c'è un suonatore di piferi due anzi e poi parecchie pecore che pascolano il liceo Lorenzo Costa potenzia la propria offerta formativa attraverso lo sviluppo di un nuovo indirizzo il liceo classico europeo alle tradizionali materie di un liceo classico il greco il latino la filosofia la storia verrà affiancato con maggior decisione lo studio di materie scientifiche ed economiche e l'utilizzo di laboratori didattici una scelta per essere più competitivi in un mondo sempre più globalizzato che sta già riscuotendo grande successo tra le nuove iscrizioni Chiara Alfonsetti e Raffaele Molella il 30% dei nuovi iscritti a Lorenzo Costa della Spezia puntano al liceo classico europeo il primo in Liguria che avrà la sede nello storico edificio di Piazza Verdi un percorso nuovo che ha tirato l'attenzione di molti ragazzi che dovranno affrontare le superiori per l'anno scolastico 2020 2021 la struttura dei corsi è stata presentata questa mattina al liceo Costa dal dirigente scolastico finalmente la nostra città che si è già aperta anche ad altri livelli si apre anche dal punto di vista della cultura e della conoscenza all'Europa la grande opportunità è l'incremento delle lingue straniere la parte legata alla sensibilità all'educazione civica alla costituzione europea cioè i nostri ragazzi avranno l'opportunità di fare vere e proprie esperienze nel campo attraverso quella che era prima alternanza scuola-lavoro e ora sono i PCTO quindi un pochino più organizzati e una grande solidità dal punto di vista delle conoscenze sul piano linguistico noi cercheremo di dare dal punto di vista proprio strutturale conoscenze più significative in modo tale che poi i nostri ragazzi possano in modo agevole muoversi nella nostra importante grande Europa insomma l'obiettivo è quello Dopo l'anteprima arriva la presentazione ufficiale dedicata a famiglie e studenti con un open day La giornata avrà inizio alle ore 16.30 con l'apertura della scuola e ci sarà in quel momento la possibilità di visitare l'istituto visitare i laboratori e in un secondo tempo invece alle ore 17 ci sarà l'inizio vero e proprio della presentazione del nuovo indirizzo del liceo classico europeo alla presenza delle autorità cittadine e regionali proprio che hanno contribuito ovviamente alla apertura grazie al loro interesse di questo indirizzo Alle 17.30 poi invece sarà forse la parte come dire un po' più tecnica un po' più concreta in cui il dirigente scolastico insieme a un gruppo di docenti che abbiamo già voluto individuare in prospettiva per l'anno prossimo un possibile consiglio di classe già concreto di quelli che saranno i docenti del liceo classico dell'anno prossimo presenterà anche singolarmente le materie risponderà alle domande delle famiglie degli studenti e cercheremo in questa maniera di far vedere di spiegare come funzionerà concretamente il liceo classico europeo a partire dal settembre 2020 le iscrizioni si sono aperte un paio di giorni fa il 7 gennaio e si chiuderanno il 31 di gennaio a livello nazionale e domani pomeriggio nel salone di Teleriguria Sud alle 17.30 avrà luogo un incontro di informazione e sensibilizzazione sul tema dell'affidamento familiare l'iniziativa è frutto della collaborazione tra il comune della Spezia e l'ufficio diocesano pastorale famiglia vediamo il servizio le immagini sono di Raffaele Maulella venerdì nel salone di Teleriguria Sud alle 17.30 un incontro informativo aperto alla cittadinanza per parlare dell'affido familiare una tematica molto importante e di estrema attualità sì esatto una tematica che noi abbiamo voluto affrontare concretamente creando una campagna di sensibilizzazione che è iniziata nel 2018 è continuata l'anno scorso e anche nel 2020 sarà appunto presente sulla nostra città lo facciamo con coraggio e con forza perché l'affido è uno strumento molto importante che può dare una vita migliore a molti bambini in difficoltà questo è un incontro appunto che sarà rivolto a tutta la cittadinanza per far capire loro come funziona tutto il sistema dell'affido e quali sono anche i benefici sia nei confronti dei bambini ma anche soprattutto per tante famiglie che vogliono comunque avvicinarsi a questo mondo l'affido familiare è diverso dall'adozione quali sono le procedure di questo di questo percorso sì l'affidamento familiare è molto diverso dall'adozione l'affidamento familiare vuol dire lavorare con essere collaborare con i servizi lavorare per il bambino e in un certo qual modo anche per la famiglia d'origine del bambino noi siamo molto grati alle famiglie che si mettono a disposizione e le nostre famiglie sono famiglie marito e moglie con rete allargata nonni zii eccetera ma possono essere anche un single che si mette a disposizione anche qualche ora della giornata quindi non bisogna pensare solamente all'affidamento come la necessità di mettere a disposizione a mettersi a disposizione 24 ore su 24 l'incontro che si terrà venerdì alle 5 e mezza è un incontro molto importante proprio perché cerca di avvicinare le famiglie al tema dell'affidamento e allontanare tutti quei miti negativi che poi vicende come quella di Bibiano alimentano e conoscere nello specifico che cosa vuol dire essere famiglia affidataria quindi io mi auguro di trovare tante persone venerdì interessate questo non vuol dire che necessariamente poi diano la disponibilità però avvicinarsi e sapere che comunque che cos'è l'affidamento familiare come il nostro distretto garantisce le famiglie affidatarie e i bambini in questo percorso noi abbiamo una procedura adottiamo questa procedura per garantire proprio tutti i vari attori del sistema e quindi anche condividere un'immagine di quello e un messaggio di quello che è dell'affidamento familiare più corretto sul nostro territorio non solo insomma i disservizi che si sono creati nei giorni scorsi lungo la tratta ferroviaria tra Levanto e la Spezia a causa dei lavori in corso a Ria Maggiore preoccupano l'amministrazione comunale di Levanto che rivolge alla regione Liguria e Trenitalia l'invito a prendere alcuni provvedimenti per affrontare con più efficacia il problema e contenere gli inevitabili disagi causati ai pendolari ferma restando la necessità di ammodernare le infrastrutture afferma il vice sindaco Luca Delbello riteniamo che in caso di imprevisti si debba almeno poter contare su di un'informazione chiara e comprensibile e sono partiti oggi i lavori di ripristino della viabilità per la frazione di Torrenco a Follo isolata dal 20 dicembre scorso a causa di una frana si tratta spiega l'assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone di un intervento di somma urgenza avviato in stretto coordinamento con l'amministrazione comunale per rompere l'isolamento della frazione dove vivono circa 70 famiglie i lavori dureranno circa tre mesi e mezzo ed ora lo sport la pallavolo il presidente dell'Unezia Volley che sabato scorso ha vinto la coppa WPL Liguria Toscana stila al microfono di Andrea Catalani un bilancio dell'anno sportivo appena concluso Massimo Magnavacca dunque bilancio presidenziale possiamo tranquillamente dirlo di quello che è stato il 2019 dell'Unezia Volley sostanzialmente con riferimento alla prima squadra sì ma direi bilancio assolutamente positivo in linea con quello che erano le aspettative anzi forse anche qualcosa di più il settore giovanile ha dimostrato che a livello territoriale siamo come dire leader come pool avendo praticamente vinto tutti i titoli territoriali e un regionale con l'Under 13 bissando quello dell'anno scorso e la prima squadra ha chiuso bene la stagione scorsa con un buon piazzamento e soprattutto è ripartita a dislancio per fare un campionato importante di vertice come stiamo facendo peraltro con ora tralasciamo le ambizioni perché è presto però sicuramente l'obiettivo è quello di fare un campionato nelle primissime posizioni una squadra giovane ben ben equilibrata condotta condotta bene diciamo da Giannini coadiuvato da Giannini e credo che sicuramente si toglierà ancora delle soddisfazioni sono molto contenta per come è andato il torneo in generale soprattutto perché oltre alla mia premiazione come miglior libro sono state premiate altre due ragazze che sono la Gorgoglione come miglior banda e la Denisa Marco che è il nostro capitano come miglior giocatrice quindi siamo state molto contenti soprattutto perché lei è un punto fermo per la nostra squadra per quello che posso dire è stato sicuramente un bel torneo dal punto di vista dell'organizzazione perché sono arrivate squadre molto forti anche dalla Toscana e da Genova che hanno alzato il livello del torneo e ci hanno permesso di confrontarci con squadre molto più forti rispetto a che magari abbiamo incontrato durante il campionato quindi sì siamo tutte molto contenti abbiamo iniziato il 2020 diciamo con un bel risultato perché siamo arrivate prima in classifica quindi diciamo che niente siamo tutte molto soddisfatte della nostra prestazione perché comunque non è stato facile confrontarsi con queste squadre sono stati dei momenti di difficoltà però comunque siamo riusciti a venirne fuori quindi diciamo siamo molto contenti sì in conclusione di Telegiornale veniamo alle previsioni meteo al mattino nuvoloso al pomeriggio possibili piogge umidità su valori medio-alti venti deboli mare mosso le temperature uscilleranno da una minima di 8 ad una massima di 10 gradi ed era davvero questa l'ultima notizia da parte mia l'augurio di una buona serata grazie a tutti Grazie per la visione!